video sono le quattro di notte tutto tace tutto dorme tutti dormono ho messo il profilo automatico anche nel pellet accendiamo la luce e vediamo la diretta pellet acceso quattro di notte e si è acceso da solo mezz'ora fa circa e ops sono svegliato tutti ops si stanno svegliando qualcuno si è già alzato e bo dai profili automatici orologi e pellet modalità notturna wow pellet wow video